Io so patriotico e so contrario agli arbitri che non sono italiani. Come dite arbitri voi dalle vostre parti? Arbitro. Noi invece diciamo affrio d'un... Sai quanto dura il tuo raffreddore? Il tempo di arrivare da qui a qui. Zerenol flu, effervescente con vitamina C. I raffreddure, febbre e dolori spariti. È un medicinale a controindicazioni ed effetti collaterali. Sotto i 12 anni consultare il medico. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Renault Clio da 8.850 euro. Oppure con finanziamento tasso zero e anticipo zero fino a 48 mesi. Concedetevi ogni spizio. Al resto, pensa Renault. No! Se hai provato una crociera Costa ai Caraidi, è difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Costa Crociere, la vacanza che ti manca. La tua casa, i mobili e le Fablie, risvegliano le emozioni più intense ed invidia di chi non li possiede. Ma sarà un sogno soltanto e poi soltanto amore. Le Fablie, firma le case più invidiate. Automobilisti premiati. I regali che cerchi, li trovi alla ESO. Perché? Perché siamo automobilisti. Come te. I regali che cerchi, li trovi all'interno. I regali che cerchi, li trovi all'interno. Chewingham per un alito fresco irresistibile. Hai comprato la 600 nuova? Si vede. Zero anticipo, zero interessi, zero maxirata finale e 36 minirate mensili. Fiat 600. È semplice. Aspirina C ti aiuta, effervescente, efficace e aspirina C. Un medicinale a controindicazioni ed effetti collaterali sotto i 12 anni, consultare il medico. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Salta la rata è la nuova promozione del Mercatone 1. Vieni a trovarci. Oggi c'è regina carta camomilla, la nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla. Quattro volte soffice. Vieni a trovarci. Davide. Martina. La Rai e i suoi abbonati. Un amore che continua. Ma l'abbonamento è scaduto. C'è tempo fino al 31 gennaio.